Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora qua in mia compagnia. Oggi vi mostrerò il segreto per avere dei glutei e delle braccia definite utilizzando solo due piccoli attrezzi che sono questo elastico tubolare con le due maniglie che trovate in ogni negozio di articoli sportivi e questo elastic band che è un elastico di tessuto particolare con diverse entrate. Io andrò ad eseguire una serie di movimenti combinati dove andrò a coordinare i movimenti per la parte bassa quindi andremo a caricare il lavoro sui glutei soprattutto e i movimenti per la parte alta dove si andrà a lavorare soprattutto sulla parte delle spalle e le braccia. Io andrò a impostare il mio timer sempre su 30 secondi di allenamento e 10 secondi di pausa ma se voi avete bisogno di qualche secondo in più di pausa bloccate pure il timer o se no bloccate il counter all'interno del mio video e poi riprendete quando siete in grado di ritrovare le vostre forze. Siete pronti per allenarvi? Andiamo pure! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.